Una terribile tragedia ha sconvolto la comunità Sant'Antimese. Un bimbo di cinque mesi è deceduto questa mattina in casa a quanto pare per cause naturali La notizia è, almeno per il momento, avvolta nel massimo riservo. Sul luogo, i carabinieri della locale caserma diretta dal tenente Daniele Perrotta e un'ambulanza del 118 che però hanno potuto solo attestare il decesso del neonato Saranno probabilmente le indagini e gli approfondimenti a chiarire cosa sia realmente successo al bambino di cinque mesi